Allora buonasera benvenuti al caffè del pasticcere come ogni anno ormai di consuetudine ci ritroviamo in questo luogo in questo tempio della insomma della dolcezza e siamo al cospetto della tua maestria come sempre siamo sempre qui per celebrare questo ormai rituale del dolce che tu crei ogni anno legato a una delle manifestazioni fanesi più rappresentative della fanesitudine ovvero sia il carnevale e quindi insomma è un momento immancabile al quale non vogliamo mancare al quale vogliamo sempre presenziare con grande piacere con grande gusto come lo fanno tutti quelli che vengono qui nella tua pasticceria che da innumerevoli anni alieta non solo il palato ma anche lo spirito perché un dolce fa bene non solo al palato ma anche allo spirito e tu lo spirito ce lo culli non da poco tu hai fatto una parata di fanesitudine che veramente rappresenta ogni angolo ogni spicchio ogni segmento della città di fano nella quale tu vivi lavori operi insomma partiamo dalla cornucopia quindi dalla fortuna perché vedo che fuoriescono dalla cornucopia delle palline delle castagnole ma sono delle castagnole particolari mi dicevi sì la cornucopia di cioccolato e in omaggio alla città della fortuna la cornucopia dalla cornucopia escono fuori delle castagnole castagnole vegane castagnole vegane la novità di quest'anno dove non ci sono grassi animali ovviamente no c'è soltanto farina fecola di patate olio extravergine e saccarosio dico bene sì e la bustina di lievito angelo il tutto è fritto nell'olio e nell'olio di girasole e quindi insomma i vegani sono accontentati anche l'onis l'abbiamo accontentati bene e quindi città della fortuna insomma la cornucopia è la simbologia per antonomasia della della fortuna vicino vedo però una caraffa che contiene un liquore dal colore insomma quanto mai esplicativo insomma sembra della cioccolata ma è una cioccolata particolare anche questa perché dici perché è una cioccolata particolare perché è una cioccolata che nella sostanza l'abbiamo l'abbiamo presa questa ricetta da un libro che ci ha gentilmente concesso la confraternita del suffragio un libro tutto impolverato indecifrabile che la signora Anna Macori direttrice della biblioteca di Cesena ci ha giustamente tradotto poi a fianco giustamente essendo una città di mare non poteva mancare una simbologia legata al mare all'intimo insomma e quindi insomma c'è un due pezzi che insomma richiama qualcosa di marinaresco sì siamo in periodo dei saldi dappertutto tutte le vetrine saldi 50 30 20 tutti i numeri e noi abbiamo pensato di fare una linea di intimo femminile col cioccolato no in intimo femminile adesso Fiorella non mi ascolta però non si possono fare su misura sono proprio misure standard per cui ecco bisogna prendere quello che c'è quello che passa in mercato però al cospetto di ciò c'è un qualche cosa che riguarda la gastronomia la gastronomia fanese una gastronomia legata al mare e quindi mare gastronomia pentola insomma il brodetto viene facile questo sarebbe un omaggio al brodetto un omaggio al brodetto il brodetto la fa da padrona c'è il festival del brodetto a Fano conosciuto ormai in tutta Europa grazie anche alla collaborazione degli ospiti qui presenti che hanno incentivato il brodetto la vendita del brodetto il consumo del brodetto la conoscenza del brodetto il brodetto sta avendo successo e noi abbiamo fatto questo omaggio al brodetto con una pentola di cioccolato invece di metterci il brodetto che dopo si scioglieva il cioccolato ci abbiamo messo i sorrisi di Fano ecco comunque sia un ingrediente anche questo interessante vede insomma quante simbologie il maestro Ceresani ha voluto mettere su questo tavolo naturalmente il monumento più rappresentativo della città è la porta augustea o detto anche arco d'augusto ma in realtà è una porta ho studiato non sembra ma ho studiato e l'hai voluto però caricare anche questo di simbologia perché Stefano non solo fa le cose buone le cose gustose ci mette anche un po' del suo e quindi anche qui hai caricato di simbologia il monumento fanese per eccellenza perché c'è un pinocchio una macchina spiegaci questa cosa dunque la macchina ovviamente era soltanto decorativo per dire che lì c'era un passaggio comunque no c'è sempre un passaggio no e mi sono ricordato dell'amico Matteo Ricci che è un grosso cliente del caffè del passiccere ormai è diventato un amico che quando va a Roma passa qui e fa colazione al mattino con i suoi collaboratori siccome stanno ristrutturando a Pesaro la piazza della palla del pomodoro di pomodoro no giusto? correggetemi se sbaglio voglio dire un mandario un messaggio a Matteo non ci rubate non ci prendete non ci portate via anche l'arco d'augusto questo è il tuo personale insomma interpretazione del pupo sì del pupo di Fano e quest'anno del caffè del passiccere ho pensato di fare questo pupo tutto colorato più che altro ho puntato sul colore ecco il pupo di Stefano Celesani perfetto bene poi carnevale getto getto naturalmente prendi getto e qui anche questa è una cosa abbastanza abbastanza legata al momento sì ho fatto un torto a Paolo del Signore sinceramente c'ho armist l'umbrella c'ho armist l'umbrella di una volta che è il classico se c'è l'umbrella fan è difficile ricordare il carnevale e ho fatto questo umbrello e tutto quanto dimenticavo di dire tutto quello che si vede è tutto quanto commestibile sì eh no dico non è che c'è qualcosa no 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 noi ci crediamo un torto che regga il cioccolato oppure anche l'arco d'augusto dico e non ci sono stampi ecco tutto creato a mano tutto quanto creato a mano sì esatto dato che ci siamo scusami ho pensato di fare anche un omaggio al programma teatrale di quest'anno sinceramente mi ha colpito in maniera positiva che quest'anno sia un programma teatrale eccellente a Fano ecco in omaggio a questo ho fatto il violino di cioccolato e ho fatto anche uno spartito un libro o qualcosa che ricordi appunto il teatro prima cosa che ho fatto la barca la barca che ricorda il porto che ricorda i pescatori e finalmente dopo non so quanti anni ho sentito parlare di dragaggio l'hanno fatto il dragaggio e questo è l'omaggio del caffè del pasticcere al dragaggio del porto di Fano allora dragaggio avvenuto e insomma vedete io direi che un applauso all'arte di Stefano va tutto perché veramente ci ha messo di tutto la torta allora veniamo al motivo di questo appuntamento il dolce legato al carnevale dopo facciamo due chiacchiere anche con gli ospiti che dolce hai voluto creare per questa edizione 2016 del carnevale di Fano dunque si chiama carnevale al fondente carnevale al fondente quest'anno ho pensato a a papa Francesco che gli piace il dolce e il dulce del lece il dulce del lece è un altro che del latte cotto con lo zucchero parecchie volte adesso non vengo qui a allencarle tutto però in sostanza è latte e zucchero quindi si sente il latte in sostanza in questa torta si sente molto il latte e il cioccolato fondente niente di particolare niente di decisionale la novità è soltanto questo dulce del lece che piace tanto al papa ecco nulla di che nulla di particolare lo dici tu a noi non ci sembra tanto nulla di che allora alle spalle abbiamo le miss le salutiamo Federica Tombari con la fascia di Miss Fano 2015 Jessica Eleonora e Chiara però abbiamo una bellezza autoctona locale del pasticcere la bellezza del caffè del pasticcere è vero Irene? due parole sul caffè del pasticcere come ti trovi? Irene come è l'ambiente qui? benissimo mi trovo benissimo siamo molto affezionati tra di noi lavoratori e ci sono sempre queste novità artistiche che ci arricchiscono dopo dovrai tagliare la torta hai questo compito sì sì mi tocca volevo andare dal professor Berardi qual è la città che più interpreta questa versione del carnevale quella legata anche all'arte culinaria al dolce alla ricetta legata all'aspetto carnascialesco non c'è dubbio alcuno che sul piano numerico di quantità il carnevale di Fano batta tutti gli altri carnevali nei dolci mentre Stefano ha anticipato quello che sarà gli anni prossimi l'obiettivo e cioè coinvolgere anche altri aspetti della gastronomia locale nella vicenda carnevalesca perché il carnevale è l'eccesso nel mangiare l'eccesso nel bere eccesso ma sono due attività quella del mangiare e quella del bere che se non facessimo sarebbe già estinta la stirpe umana ce n'è un'altra ed è l'attività sessuale senza farla quale ugualmente si otterrebbe un risultato negativo va bene allora io continuo da questa parte l'operatore ce la fa sì abbiamo ribaltato così facciamo noi visto che ci troviamo nella platea insomma becco due piccioni con una fava per cui va benissimo così allora iniziamo per dovere di cavalleria insomma con Rosetta Fulvio il presidente del consiglio comunale di Fano allora Stefano esprime una fanesitudine e una creatività dei fanesi quanto mai insomma foriera di belle cose è una possibilità questa che se tanti fanesi come Stefano si mettono insieme insomma si arriva lontano è possibile questo? Sicuramente sì la creatività di Stefano Ceresani che è un artista della dolcezza è un orgoglio per la città di Fano e sicuramente anche un esempio ricercare come fa Ceresani anche nelle nostre tradizioni quindi lo diceva prima lo spiegava cioè portare all'attenzione anche magari ricette o cose che sono perse nella memoria ma che fanno parte del nostro del nostro tessuto della nostra storia delle nostre radici e avere anche questa grande proiezione comunque verso l'attualità verso se vogliamo anche verso il futuro con una ironia incredibile ecco io credo che sia una forza che sta nel DNA del fanese quindi questa capacità di anche saper affrontare la qualità che a volte può presentare dei momenti comunque di criticità di grandi difficoltà ma ecco saperla affrontare con quella voglia di vivere con quell'entusiasmo con quella anche intelligenza che a mio modo di vedere sicuramente fa e può fare la forza Renato Claudio Minardi vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche insomma vi consegna già in anticipo il dolce insomma legato in miniatura ma insomma è un dolce una tortina carnevalesca allora pregressa esperienza nel mondo turistico nel mondo enogastronomico nel mondo insomma della eccellenza mi chiedo insomma una piccola previsione per questa stagione turistica che si sta avviando e che si sta aprendo con il carnevale sarà insomma questo carnevale foriero di belle cose per fano? speriamo di sì ma intanto bisogna sottolineare l'importanza di questa manifestazione di questo evento perché il carnevale è non solo riscoperta delle tradizioni il carnevale più antico d'Italia il carnevale più dolce d'Italia quindi un evento importante per la nostra città ma è sicuramente anche un evento dal punto di vista turistico perché come dicevi tu apre sicuramente una stagione una stagione che poi sarà lunga perché insomma siamo ancora a gennaio ma il carnevale è non solo un evento di divertimento non dimentichiamo mai la tradizione del carnevale di Fano la realizzazione dei carri allegorici la musica arabita il fatto che Stefano rappresenti il pasticcere rappresenti non soltanto la pasticceria ma è un vero e proprio artista ma deve essere quindi anche un'occasione di promozione per far conoscere la città per attirare persone che devono venire a Fano al carnevale non solo per il carnevale ma anche per scoprire le bellezze che questa città e questo territorio è in grado di offrire c'è un omaggio floreale che viene dato al presidente del consiglio comunale di Fano Rosetta Fuglio da parte di Stefano Ceresani e i dolci sono qui promozione importante quindi promozione importante perché tra l'altro poi va detto l'amministrazione comunale quest'anno ha giocato furbescamente d'anticipo se siete stati bravi perché hanno presentato il programma degli eventi 2016 in concomitanza con il carnevale di Fano quindi insomma ci sarà modo da parte di turisti di quanti vengono da città limitrofe o da tutta l'Italia di conoscere anche in anticipo che cosa verrà nella stagione estiva cosa molto insomma azzeccata insomma quest'anno nel carnevale avete insomma uno zampino nel senso che comunque per la corsa degli ignudi avete messo in pianta in piazza qualche cosa anche voi sì è un onore io oggi rappresentavo la proloco perché purtroppo il presidente Etienne Lucarelli oggi è fuori fuori Fano per lavoro personalmente lo sostituisco io però quest'anno con la carnevalesca finalmente abbiamo diciamo in qualche modo una collaborazione su questa apertura del carnevale in piazza con la corsa degli ignudi perciò una cosa nuova una novità un anno zero perché naturalmente le aspettative di questa manifestazione sai quando si parte da zero è difficile un attimino dire se vengono uno dieci cento mille però è importante partire per dare un futuro negli anni prossimi a una manifestazione che secondo noi quando è carnevale ci sta tutto naturalmente siete venuti fuori da una stagione estiva alla grande avete fatto una buona programmazione anche nel Natale avete dato il meglio di voi insomma siete a pieno negli addentellati della città diciamo che questa città sull'associazionismo non ha rivali naturalmente noi come Proloco naturalmente siamo uno di queste associazioni però ce ne sono tante altre e voi mi insegnate che se questa città hanno detto tutto di questa città che è una città bella che è una città da sviluppare se tutti insieme ci mettiamo intorno insieme a lavorare per questa città naturalmente il carnevale abbiamo detto che è la manifestazione numero uno però Fano l'ha visitato dobbiamo portare i turisti d'estate in particolar modo però se noi siamo così bravi Stefano ne è un esempio avete detto tutto di Stefano se voi pensate che Stefano noi facciamo voglio dire un aneddoto di una cosa che facciamo facciamo la Befana in piazza quest'anno purtroppo è stata l'unica nota negativa tra di tutto il Natale Stefano tutti gli anni ci regala un quintale di cecolata calda da dare ai fanieri Stefano che sta in periferia perciò diciamo è un esempio Stefano che io come Tre Ponti che lo conosco da tanti anni siamo amici da tanti anni ma anche con collaborazione con la Proloco naturalmente quando hai bisogno di una mano Stefano c'è lui c'è sempre e questo è un esempio per questa città e noi dobbiamo lavorare su questi esempi e allora io insomma volevo fare due battute anche con Gianni Boiani ha speso tanto tempo della sua vita per lo sport per il fano per il calcio per i giovani per i ragazzi a insegnargli un'arte che è quella insomma dei colori dei pennelli insomma c'è stato tanto tempo dedicato anche a questo aspetto di fano all'arte Sì questo duplice compito quello di insegnante prima e quello di allenatore poi mi hanno portato a coniugare l'aspetto diciamo creativo sia in campo che nell'espressione artistica infatti in questo libro ci sono anche documenti riguardanti il lavoro fatto all'interno della scuola soprattutto inteso come espressione artistica appunto ispirata al tema dello sport e anche allo sport come valore educativo quindi questo doppio canale tra sport inteso anche come risultato come formazione ed educazione sono stati sempre presenti nella mia attività di insegnante di padre anche di re e di allenatore e in questo libretto c'è anche un po' di Stefano Ceresani perché c'è una pagina che lo riguarda certamente dunque intanto devo ringraziare l'amico Stefano che oltre ad essere conosciuto come bravo maestro pasticcere è anche conosciuto ed apprezzato come tifoso dei colori Granata quindi vogliamo tutti bene l'alma da tempo e qualche tempo qualche tempo addietro facciamo forza alma diciamo qualche tempo addietro quando lui sosteneva non solo a livello di tifo di presenza l'alma Juventus ma anche con altri contributi ho ritenuto opportuno dedicargli un disegno è un'immagine così di Stefano che corre in mezzo al campo in mezzo a dei birilli con delle torte in mano quindi è vestito da calciatore ovviamente lo trovate disegnato qua dentro fatto da me io insieme a te e insieme anche a tutti i presenti vorrei strappare un applauso per tuo fratello Francesco Francesco Boiani perché è stato per tantissimi anni la voce ufficiale del carnevale e ha accompagnato tutti quanti coloro che sono venuti nella città di Fano con la sua voce molto particolare col suo tono pacato ma molto preciso a vivere il carnevale quindi grazie Francesco per essere stato sempre un attento osservatore e divulgatore della fanesitudine del carnevale di Fano vi ringrazio a nome mio personale e a nome anche di Francesco ovviamente quindi sarà contentissimo e felicissimo di questo riconoscimento grazie che porta i nostri saluti e questo applauso a lui bene grazie allora prima di passare al taglio della torta due battute le Miss che sono qui grazie a Montanari Comunicazione che sono che sono dietro le quinte allora Federica Tombari Miss Fano 2015 insieme a Jessica Leonora è chiara ben arrivate e insomma hai visto quanta fanesitudine quante robe ci sono da portare avanti per fare hai un bel peso da portarti dietro già farai del tuo meglio immagino sì sì certo ovvio rappresenterò la mia città e sono molto contenta di essere qua grazie a tutti bene grazie a te per essere qui un applauso a Miss Fano e naturalmente adesso Stefano da grande cavaliere nonché padrone di casa le omaggia con un omaggio floreale bene io sono otto baci otto baci eh quindi non non vedevi l'ora di fare questa da prima che scalpiti con le rose ti vedevo va bene insomma è giusto così giungiamo al momento clou il taglio della torta e dopo si mangia si aggiaggia giustamente eh bene grazie per essere stati qui insieme a noi in questo appuntamento immancabile con il carnevale di Stefano Ceresani del caffè del pasticcere grazie grazie a tutti Grazie per la visione!